occhio malocchio prezzemolo e finocchio occhio malocchio prezzemolo e finocchio occhio malocchio prezzemolo e finocchio eccomi amici amiche buonasera ragazzuoli belli come state vi sono mancato ieri non ci sono stato non potevo fare il video non poteva essere il mio solito video devi buona serata di questo mercoledì scusate 2 febbraio 2022 ore 19 e 25 ragazzi le notizie sono belle fresche come dico sempre io presto che tardi partiamo a razza vi abbraccio tutti occhio malocchio prezzemolo e finocchio ragazzi occhio malocchio prezzemolo e finocchio come ci ha insegnato il buon lino banfi nel suo mitico film ragazzi il derby e le porte inter milan questo sabato alle ore 18 e noi ci vedremo in video per la reaction dopo la partita ovviamente entro le ore 20 e 30 ragazzuoli belli ma indovinate indovinello che arbitro ci hanno appioppato marco guida marco guida ragazzi marco guida occhio malocchio prezzemolo e finocchio ragazzi belli allora praticamente marco guida da quando ha arbitrato il milan da quando ha iniziato a arbitrare il milan in 33 partite ve lo leggo testualmente che perché ho preparato la mia scaletta praticamente ha collezionato 15 vittorie 9 pareggi con noi e 9 sconfitte presente milan lo ripeto con guida ha vinto 15 volte ha fatto 9 pareggi e 9 sconfitte e con il nostro caro arbitro assegnato di torre annunzi ragazzi dobbiamo stare tranquilli dobbiamo stare sereni non ci dobbiamo appellare queste cose la squadra deve dimostrare di saper fare il suo lavoro perché i ragazzi ci sono e la squadra c'è e allora la notizia dell'ultima ora qual è che praticamente pioli ha pensato la coppia benasser tonali con trequartista che sì che finalmente è rientrato dalla coppa d'africa alleluia è riuscito a rientrare perché c'è stata un po di traversie logistiche e non si sa ancora se Tomori recupera a proposito Ibrahimo ci sembra che non sta ancora bene parte Girouda all'inizio adesso vedremo un attimino la questione non ho ben capito invece Rebic come sta ma comunque sembra che Rebic ce la faccia adesso vedremo ragazzi per cui in questo momento archiviamo il derby siamo pronti sul finale di questo video vi ho una notizia abbastanza interessante piccantella ma udite udite il buon Gianluca di Marzi oggi ne ha detta un'altra delle sue scusate ragazzi mi viene da ridere perché queste cose già ve le dico ma ve le dico adesso vi ritrituro la notizia perché la notizia da noi è già stata digerita da voi che mi seguite che siete iscritti al mio canale a proposito lo ripeto vi mando un abbraccio la notizia è già stata digerita però oggi Gianluca di Marzio clamoroso anche lui ormai fa i titoli bomba no queste cose qua il Milan si deve riscattare l'estate prossima praticamente Maldini si vuole riscattare per la figura fatta in questo calcio invernale e praticamente si fionderà a capofitto all'inizio di giugno per Butman Sanchez e Jonathan David l'attaccante del Lille e dobbiamo mettere sempre in opzione anche Icardi al Milan perché Ibrahimovic non dà più garanzie e forse Giroud e compagnia bella ma buona Gianluca di Marzio ma che razza di notizia è questa ma scusa caro di Marzio cioè vorrei anch'io fatturare così con queste notizie ma non posso un applauso a Gianluca di Marzio e ragazzi voglio dirlo subito questo video visto che non l'ho fatto ieri visto che è venuto a mancare due sere fa lo dedico alla famiglia Zamparini di Maurizio Zamparini di un presidente di un uomo che nonostante i suoi grossi difetti le sue traversie anche con la sua azienda con le sue attività e tutto il resto ma comunque nel calcio è stato un avanguardista cosa vuol dire un avanguardista ha guardato oltre ha guardato nel futuro ha scoperto dei talenti incredibili aveva il fiuto per i calciatori sapeva controllare sapeva scusate così controllare guardare osservare e scegliere i calciatori voglio ricordarvi i calciatori che ha scoperto Zamparini uno su tutti Di Bala ragazzi ma di cosa stiamo parlando Di Bala e tanti altri ragazzi tanti altri tanti altri perché è stato un grande presidente un uomo che ha sconquassato il mondo del calcio col suo modo di essere un eclettico Cavani ma quanti giocatori ragazzi ma quanti giocatori ha scoperto Zamparini aveva un Palermo una squadra fenomenale io mi ricordo che quando si incontrava il Palermo ve lo ricordate voi era sempre una fatica incontrare il grande Palermo di Zamparini e mi è dispiaciuto veramente tanto perché è un uomo che ha lasciato un'impronta di sé per cui questo video è dedicato lui perché è dovuto ragazzi facciamo una precisazione alla bella notizia siamo già un modello ma non lo sapete ve lo dico io se non lo sapete ve lo dico io e ve lo straripeto il Milan è già un modello nel mondo del calcio soprattutto in Italia no no ma in questo caso anche in Europa alla chiusura del calcio al mercato di questo calcio al mercato invernale 2022 gennaio 2022 è stata tirata una lista della classifica del costo delle rose delle squadre cioè praticamente di quanto costano nel vivo nelle casse tutti i giocatori con il loro stipendio alle squadre di calcio indovinello in Italia coloro che hanno abbassato nettamente il costo della squadra cioè degli stipendi che vengono pagati ai giocatori chi è dovina indovina dillo dillo è ovvio il nostro amato Milan sei bellissimo oggi sono così è una puntata puntata del mio video allegra allegra perché io sono contento del lavoro della mia società è incredibile udite udite il costo della rosa del Milan è di 147 milioni di euro e vi faccio un paragone più stringente incluso il signor vlaovic come se fosse arrivato il il salvatore della patria di colui che prende tutta la squadra sulle spalle e praticamente ogni partita la fa vincere solo lui in realtà c'è anche il resto della squadra che deve giocare no e beh voglio ricordare che c'è un certo bremer del torino che praticamente vlaovic lo ha annullato ma io sono contento che arriva il mio bootman perché è un bestione clamoroso incredibile ragazzi e adesso voglio vederlo in champions league io mi vedrò tutte le partite in champions league dell'il ha capito avete capito il costo della rosa della juventus udite udite 319 milioni di euro incluso vlaovic differenza con il Milan di 172 milioni di euro in più ma questi dove vogliono andare ma dove vogliono andare ragazzi è uno spettacolo lo scudetto dicono i tifosi milanisti lo scudetto dei bilanci ma andate a ciappa erata ma andate a zappare la terra che voi non capite una mazza ci sono alcuni tifosi milanisti che si devono solo vergognare di essere tifosi milanisti non ci hanno capito proprio un'emerita mazza ha un altro che oggi mi ha fatto ridere è bobo vieri ma caro bobo vieri ma cosa hai dichiarato oggi è il milan deve azzerare i debiti e poi deve ripartire con gli acquisti ma cosa hai capito noi non abbiamo debiti con le gambe con le banche abbiamo zero debiti con le banche abbiamo solo la perdita di esercizio che ora è classificata a 100 milioni di euro cioè la differenza tra i costi e i ricavi 100 milioni di euro vai a vedere la tua juventus la tua inter che perdi dell'esercizio a e i debiti e i debiti con le banche i debiti con le banche lo ripeto per l'ennesima volta aumento di capitale vuol dire immettere azioni sul sul mercato che è stato finanziato per 255 da exor che exor tra un po di tempo farà la stessa fine di fin invest che tra un po chiude i robinetti e poi sono guai e cosa vuol dire e cosa vuol dire bond cioè praticamente vendere le obbligazioni delle aziende inter ed essere debitore dei creditori sveglia babovieri non sai niente di queste cose tu non sai niente di queste cose niente 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 chiaro ma parliamo adesso di un argomento molto interessante il nostro Ivan Gazidis con una nota ufficiale dell'AC Milan 1899 uno spettacolo praticamente ragazzi mi viene da ridere perché io quando allora io so già dove andremo ve lo sto spiegando di tutte le salse qualcuno di voi non l'ha ancora capito pace amen poco importa perché la vostra testa non è la mia testa la vostra conoscenza non è la mia conoscenza però io sono qua apposta per informarvi ho iniziato questo percorso il 6 gennaio 2020 e lo mando avanti maudite unite nota ufficiale del Milan in rappresentanza di AC Milan una delegazione rossonera guidata dal CEO Ivan Gazidis con alcuni senior manager del club e in visita istituzionale a Dubai in occasione di Expo 2020 in Dubai questa è la nota ufficiale poi si viene a scoprire che negli Emirati Arabi Uniti secondo quanto riportato da Nils che è un'azienda di sondaggi sono oltre 2 milioni e mezzo gli appassionati che apprezzano e tifano Milan 2 milioni e mezzo di tifosi mentre considerando la regione Mena Medio Oriente e Nord Africa a proposito mando un saluto tutti voi che mi guardate mi osservate dal Nord Africa perché è un folto gruppo di tifosi milanisti algerini e anche tunisini ragazzi vi abbraccio vi saluto tutti saluto tutti voi che mi vedete da Thailandia Colombia Sud America e tutto vi abbraccio siete unici ve lo meritate perché la verità siamo tutti una grande famiglia il mondo è tutto una grande famiglia è tutta una grande famiglia di tifosi rossoneri tra l'altro e praticamente sentite ripeto mentre considerando la regione del Mena Medio Oriente e Nord Africa durante le prime 17 giornate della serie A di questa stagione 2021-2022 il Milan è stata la squadra più seguita con una media di 450 mila spettatori durante i match ovviamente davanti alla tv ma non so se qualcuno è arrivato con l'aereo è un valore complessivo d'incasso che arriva a 7 milioni e 200 mila euro solo perché questi 450 mila del Nord Africa e del Medio Oriente si sono messi davanti alla tv a vedere il Milan ma prima di tutto grazie a voi che avete seguito il nostro Milan ma ragazzi avete capito qual è il potenziale di essere famosi e conosciuti anche in Medio Oriente e Nord Africa e visita istituzionale io l'ho scritto anche in Instagram dottor Gazzidis mi raccomando butti bene le basi per il futuro perché il futuro sarà molto erosio d'altronde io ve lo dico sinceramente in modo molto lento così almeno se qualcuno metti i sottotitoli può ascoltare bene cosa dico e soprattutto tu caro giornalista visto che mi stai guardando ascolta bene cosa dico per riportarlo nei tuoi articoli visto che considerando io non ho ancora capito come mai ma questa è la mia curiosità guarda caso Paratici che lavora al Tottenham prende due giocatori della Juventus un colpo solo il mercato invernale la Juventus prende Vlaovic mistero della fede nessuno ci ha pensato a prendere Coluseschi e Betancourt non sto non sto accusando nessuno sto dicendo solo mistero della fede ma una cosa di altrettanto logica la dico ma vi ricordate pif che prima di Natale doveva allora no fine novembre poi prima di Natale doveva comprare l'Inter entro il 31 dicembre dopo Natale doveva comprare l'Inter a gennaio doveva comprare l'Inter pif non si vede la mazza la signora la dottoressa manda la numero uno di pif che a mano al Newcastle l'aveva già detto noi non compreremo l'Inter avevamo pensato a Milan e Inter ma non se ne è fatto più niente perché gli stadi la struttura della Serie A è penosa ma come mai ancora nessun pif cioè il pif non ha ancora comprato l'Inter ma vi dico io perché per i debiti per i debiti per i bond per la perdita esercizio tre fattori che fanno un disastro colossale con rispetto parlando di cui io sono solo portavoce dei numeri che sono riportati sulla carta stampata ergo questo vuol dire che quando il Milan tenderà il pareggio abbiamo le firme dello stadio abbiamo la nostra presenza costante in Champions League e noi ci auguriamo di vincere lo scudetto il più presto possibile adesso oppure l'anno prossimo ma comunque con tutti questi fattori come io dico da due anni da due annozzi praticamente ormai è chiaro siamo sulla via di andare in futuro in futuro nelle mani di un grandissimo magnate ma il magnate non è che arriva da queste zone perché delegazione rossonera è andata proprio in pompa va in pompa magna in Dubai proprio ora che c'è il derby di Milano non so se mi sono spiegato la delegazione non rimane a Milano per il derby va in Dubai per l'expo che a quanto pare è ancora più importante per buttare delle basi chi mi ha capito mi ha capito chi non mi ha capito non c'è importanza forza mina sempre comunque ovunque è uno spettacolo perché quando tu hai un'azienda che funziona bene non ha debitucci non ha casini casini vari coi conti ucci ucci problemucci per gli altri ma che goduria per noi